Ciao a tutti, oggi sono qua per fare due chiacchiere in tranquillità con voi, anche perché in queste ultime settimane sto lavorando tantissimo e sono molto sotto pressione, quindi avevo fisicamente bisogno di sedermi in tranquillità e parlarvi un po' a ruota libera. La prima cosa di cui vi volevo parlare è il benedettissimo incontro che mi chiedete ogni settimana praticamente e io non so mai cosa rispondervi perché con il lavoro che faccio purtroppo non posso spostarmi molto, non ho neanche i soldi per poterlo fare, se potessi veramente mi piacerebbe ogni settimana essere in una città diversa per incontrarvi, quindi ho pensato a che cosa fare e l'unica cosa che in questo momento mi è venuta in mente e che sarebbe fattibile è organizzare un incontro qua Rimini. In modo da avere l'opportunità di incontrarvi, farci foto, fare un giro in centro, mangiarci un gelato insieme che a me piace tantissimo, girare in libreria, fumetteria, nei miei negozi preferiti, insomma passare veramente un pomeriggio insieme come amici perché alla fine molti di voi che mi seguono qua su Youtube sono diventati come degli amici per me. Io ho pensato di organizzare questo raduno o il 6 maggio o il 20 maggio che sono praticamente due sabati prima e dopo il mio compleanno proprio per festeggiare insieme a voi questo evento. Se la cosa effettivamente vi interessa e avete l'opportunità di partecipare fatemi sapere qua sotto nei commenti quale weekend sarebbe meglio per voi. Lo avevo accennato anche sul gruppo Facebook Civis the Weenie ma mi sembrava giusto fare un video apposito perché sul gruppo non ho ricevuto tanto riscontro ma è una cosa che effettivamente mi chiedete sempre in tantissimi e continuamente. Mi è venuto poi in mente che ci potrebbero essere due altre occasioni in cui poterci incontrare sempre a Rimini a giugno e a luglio ovvero a Mare di Libri e a Rimini Comics. In queste occasioni però non potrò organizzare qualcosa di così specifico perché non so ancora in che giorni potrò parteciparvi inoltre si trattano di eventi quindi non c'è tutta questa libertà diciamo di movimento che ci sarebbe nell'incontrarci in centro città e girare a nostro piacimento. Comunque nel caso foste curiosi vi lascerò tutti i link qua sotto in descrizione. Mare di Libri si terrà dal 16 al 18 giugno e Rimini Comics ovvero la fiera del fumetto completamente gratuita dal 20 al 23 di luglio. Dal momento che ho ricevuto un riscontro più che positivo da parte vostra riguardo ai vlog in cui vi porto semplicemente in giro con me, vi faccio vedere che cosa faccio nell'arco di una giornata, stavo pensando di realizzare un vlog di quel tipo al mese. Quindi se effettivamente vi interessa datemi conferma nei commenti. Sempre una tipologia di video che vorrei introdurre con più frequenza... Sono i tutorial! Io lo dico continuamente però è un periodo che è una fortissima repulsione verso i tutorial perché nonostante mi piaccia tantissimo realizzare a mano cose fatte da me, quando si tratta di fare un video in cui spiego come realizzare quella cosa va via tantissimo tempo. Uno per progettare, per trovare i materiali giusti e lì vanno via anche molti soldi, il tempo per filmare. Adesso per fortuna ci sono delle belle giornate, si stanno allungando quindi ci sono più ore di luce, però col lavoro che faccio non ho tantissime ore per poter filmare effettivamente. Sì, parlo di ore perché a volte ci vogliono più ore per filmare anche un semplice video che vedrete poi di 4 minuti. Quindi è un video che richiede tantissimo impegno, tantissimo lavoro da parte mia, ma che non riceve spesso il riscontro che io mi aspetto, quindi ho avuto un periodo veramente molto buio di repulsione verso questo tipo di video, però ci sono tante idee che ho in testa e che vorrei realizzare. Per evitare però di rimanere delusa, fatemi sapere nei commenti quali video tutorial vorreste vedere, in modo che io possa realizzare qualcosa che effettivamente interessa anche a voi e in modo da impiegare le mie energie in qualcosa di effettivamente utile. Che sia un oggetto realizzato semplicemente a mano, una decorazione, cucito, uncinetto... Mi avete chiesto in tanti anche di fare un tutorial sui space buns che io non so fare così tanto bene da mostrarlo in video, però se effettivamente è una cosa che vi interessa sarei disposta a farmi anche un video del genere. Quindi qualsiasi tipo di richiesta, adesso mai più! Ho attenzione poi di fare più video a tema anime e manga, soprattutto gli anime consigliati, ho visto che vi piacciono tantissimo, quindi cercherò di fare questo tipo di video più spesso. Tanto ho una lista infinita di anime che vorrei consigliarvi, basta solo trovare il tempo giusto per mettere giù le idee per bene. Per quanto riguarda invece manga, fatemi sapere che tipo di video vorreste vedere, se è dei video in cui vi consiglio dei manga, suddivisi per genere come ho fatto nel video i shoujo consigliati, o se volete sapere magari dei miei manga preferiti. In molti mi chiedete anche il tour dei fumetti, dei manga, però in questo momento non è tanto fattibile perché li ho sparsi in tantissimi posti diversi in casa, quindi a parte quello, qualsiasi richiesta, fatemelo sapere. Ultimamente sto lavorando molto anche al blog, non sono così tanto attiva quanto sul canale YouTube, ma sto cercando di fare meno ma meglio. Sto cercando di trovare delle idee buone per il blog, per introdurre anche degli argomenti che non riesco a trattare qua sul canale YouTube, come ad esempio beauty, skin care, trucco e quant'altro. Sono cose che accenno giusto qualche volta magari negli haul, però visto che rispottono molto successo e mi interessano particolarmente, quindi mi farebbe un pochettino strano in realtà fare un video adesso così dal nulla sulla mia, che ne so, skin care routine, quindi magari potrei parlare di quelle cose sul blog. E stavo pensando anche di fare dei post commento riguardo alla nuova stagione dell'attacco dei giganti, magari una settimana sì, una settimana no, commento due episodi della nuova serie. In realtà mi sarebbe piaciuto fare un video commento, però richiede troppo, ma veramente troppo tempo, poi non so quanto potrebbe effettivamente interessare. Non so neanche quanto potrebbe interessare un post sul blog, però conto tanto sul vostro riscontro qua nei commenti. E infine vorrei fare qualcosa anche con la pagina Facebook, perché non mi piace tanto l'idea di postare soltanto delle immagini o i video che ho pubblicato, mi piacerebbe renderlo un post in cui parlarvi di cose extra che magari non parlo né sul blog né sul canale YouTube. Tipo l'altro giorno vi ho consigliato un documentario Netflix, insomma qualcosa magari di breve, abbastanza conciso, però comunque per innescare un confronto, per consigliarvi magari qualcosa. Insomma vorrei rendere anche la pagina Facebook un post utile. Quindi se avete dei consigli in questo senso, mi raccomando fatemelo sapere. E sì, avrò detto un milione di volte, mi raccomando fatemi sapere, fatemi sapere qua sotto nei commenti e così via, però effettivamente è molto ma molto importante per me la vostra opinione su questi progetti. Quindi sì, fatemi sapere che cosa ne pensate al riguardo. Parlando appunto di questo progetto che è il mio canale, il blog e tutto ciò che è annesso, mi sono decisa ad aprire una pagina su Ko-fi, un sito web che permette alle persone di sostenere economicamente dei creatori di contenuti, come ad esempio blogger, artisti e così via. Ho riflettuto tanto se fare o meno questa cosa e alla fine mi sono decisa esclusivamente perché è una cosa che mi avete richiesto in tanti. Quindi ricevo, non dico un giorno sia un giorno no, però veramente molto frequentemente richieste di persone che vorrebbero sostenere il mio canale, che vorrebbero aiutarmi ma magari non utilizzano Amazon, non gli piace il sito, non acquistano online, quindi non hanno modo di farlo attraverso la mia affiliazione Amazon. Quindi da ora in poi troverete in tutte le descrizioni di miei video il link alla mia pagina Ko-fi, in cui potrete offrirmi un simbolico caffè che equivale a circa 3 euro se non sbaglio. Se è una cosa che vi può interessare, nel senso che credete nel mio progetto, vorreste vedere sempre contenuti migliori e soprattutto se ne avete la possibilità mi sembrava giusto darvi uno strumento per poterlo fare. La stragrande maggioranza delle cose che vedete in video di cui vi parlo, che recensisco, è comprata comunque con i miei soldi, con i miei risparmi, così come la videocamera, le luci, il treppiedi, qualsiasi cosa. Quindi se credete in questo progetto e magari vi interessa darmi una mano per migliorarmi, adesso potete farlo. Ovviamente non siete obbligati, se non vi interessa o non ne avete la possibilità, tranquillissimi, non è un obbligo, assolutamente, amici come prima. E questo per oggi era tutto. Io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!